buongiorno oggi sant'anna auguro a tutte le anne sono le 11 10 e siamo per iniziare la scalata per il vesuvio eccoci qua a piazza anvito ci siamo san vito aiutaci tu allora amore quanto manca? mancano 100 metri ci siamo quasi abbiamo quasi finito siamo quasi finiti si san vito ci ha aiutato san vito è stato tosto è stato ancora possiamo cantare vittoria è tosto ecco vedi ci siamo ci siamo ma ce la faremo allora quanto manca? ultima curva ci siamo ci siamo ultimo sprint san vito non ci ha assistito comunque ce l'abbiamo fatto manca quest'ultimo strappetto e siamo arrivati in cima ok ce l'abbiamo fatta siamo arrivati in cima al vesuvio è stata dura ma ci siamo riusciti allora commenti a caldo ricordavo che era dura però è più dura comunque siamo qua ce l'abbiamo fatta grazie a Assia che ha pedalato senza mollare mai ciao a tutti tanti turisti qua sul vesuvio zeppo proprio zeppo 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 bus che arrivano in continuazione non c'è più spazio dietro ce ne stanno altri e noi siamo qua tutti belli guardandoci la pausa ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ma ecco qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.